Cazzo! Scream e ben monta! C'hai anche armlock se vuoi! Vai Nicola! Vai Nicola! Spicci là Nicola! Scream su! Eccolo! Vai! Ritenta! Non ti sbilanciare Nicola! Non ti sbilanciare Nicola! Non ti sbilanciare Nicola! Vai! Vai! Vai Nicola! Un minuto! Bravo! Tira! Grande Nicola! Grazie! Grazie! Ho vinto! Ho vinto! Due vantaggi! Vabbè ma non ti ha finalizzato? Dai! Ah! Stai finito! No ma che? Due minuti e mezzo ma cazzo! Allora perché ha fatto due vantaggi? Cazzo mi sa Fabio! Lo lasci di fare! Non lo fai protagonista! Grazie! Ehin ehin! Ehin ehin! Ehin ehin! Ehin ehin!